Ciao a tutti, oggi diamo inizio alla nostra rubrica puntata su come nutrire correttamente il sistema immunitario. Oggi voglio parlarvi di qualcosa di molto interessante, l'ipotesi delle gene o come molti la chiamano la Hygiene Hypothesis. Siamo cresciuti con l'idea che dobbiamo evitare germi e batteri per mantenere la nostra salute, tuttavia la Hygiene Hypothesis suggerisce che una certa esposizione a microorganismi, soprattutto durante l'infanzia, può effettivamente essere benefica per il nostro sistema immunitario. Quindi cosa possiamo fare per garantire un sistema immunitario forte? Ecco alcuni suggerimenti. 1. Macro e micronutrienti, mangiare in modo sano è fondamentale, proteine, carboidrati, grassi sani e una varietà di vitamine e minerali sono essenziali per il nostro corpo. 2. Attività fisica, muoversi è vitale, l'esercizio regolare non solo migliora la nostra forma fisica ma stimola anche il sistema immunitario. 3. Integratori, in alcuni casi potremmo aver bisogno di un piccolo aiuto extra, integratori come la vitamina C, la vitamina D o lo zinco possono contribuire a rafforzare il nostro sistema immunitario. Ricordate la chiave è la varietà, un mix di esposizione a germi, una dieta equilibrata e l'attività fisica possono lavorare insieme per rendere il nostro sistema immunitario più forte e resistente.